È vero che gli anziani devono bere il meno caffè? In realtà qualcosa di vero c'è, premesso che è vero che l'anziano risulta essere più sensibili alla caffeina, quindi limitare il numero di caffè che si assomano nell'atto della giornata è sicuramente ragionevole, a meno che si ricorra al caffè dei caffè in atto. Possiamo dire che un anziano sostanzialmente con una salute concedersi 2-3 caffè al giorno e va tenuto tra l'altro presente che il caffè a fine pasto può essere molto utile per ridurre il calo di pressione a cui spesso gli anziani vanno incontro in questi momenti della giornata.